Il figlio Il figlio Se l'assaggia Fai tu come il gommone Ehehehe 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 E Ehehehe 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 Quello Ehehehe Ora S'appoggi e se vuoi pensa un po' che dice che fungano il ratino come faranno se non fanno questo modo? chi c'è? questo è il posto riservato senti che musica fanno nel bar alla notte quella musica spiegatata da drogati alcoolizzati poi si ritengono artisti assente è bestemmia non c'è la sapore? no? no? hanno i cucioni che vennerà a cacciare? no? e quando c'è la sky vieni quando c'è la sky ah non vieni ma con chi va ma con cinghiale la facciamo e questo è il numero che si appa che non dire che si appa nemmeno si mettono lì va bene va bene va bene la vorrei dire un prontino domattina va all'orto sto cofrati e ziappo all'orto domattina siamo morti sto cofrati e ziappo all'orto ma giocchi venite non la portino dai a sagiare grappa dai a sagiare cosa io voglio ti voglio bene polpa ti ho trattato bene ma che te quello che mi parli di gonfiati ma ci vada a niente solpezione non è un portavolto a satturio la solpezione è stata non è un portavolto io sono contento di aver risolto sono contento di aver risolto 100 euro prima o me le potevo mangiare in totale guardate ma poi andate e ho realizzato tutti i miei giorni e ora nel 2010 ma l'ho appunto i soldi che arrivano è parecchio io lo posso finire come siamo stati a Maremma Zoppa a Maremma Zoppa la pizza è troppa la notte arriva e lo spaghetto incombri venite qui che mangiate come un tribunale come quello di Aggiù del Conconi come sai vedi che mangiano come in tribunale è una delle più buone di pagano di cele finanziato queste due tre avete brancati tonne insomma i cittadini quelle lo diborre come l'acino muliatico tre o quattro anni soli non è vero? c'è da chi? hai visto anche le vizioni? la mattina vanno al bar mezz'aranciatina al cappuccino la pasta avete mangiato? metti la sedia no aspettavo da qui metti la sedia prima ho visto la morte ora vieni metti la sedia a parlare con te va vicino al nero vedi ti vuole parlare va vicino al nero voglio andare via perché se no che pensione piglia si mette ma tu prendi ci muoio di fame ma non tocca andare a rubare madonna ma non si vergogna no ma tu col fisico che si ritrova tutta la situazione che si ritrova non ce la faccio anche troppo sorpreso si 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 con quelli lì ci ritrovo io comunque ti dico la sincera vita per ora duro c'ho da realizzare tutti i miei sogni quando non me la sento più vuole curare tutti perché tanto senti fai il bravo ti dicono sei in testa di cazzo fai il testa di cazzo ti dicono sei in testa di cazzo ancora fai per bene dicono in quella maniera fai male ti mettono in galera l'opinione pubblica è una diavoleria grossa come la cazza sono un branco di stronzi e la metà basta i politici fra la burocrazia l'omertà la stronzaggine l'abuso di potere le conclusioni di atti d'ufficio e tutto il via discorrendo fanno schifo si si ma hanno dato del pazzo ma hanno dato del matto me l'hanno detto tutti con me vedrai addirittura dipingevo facevo quadri e dicevano io il tuo pazzo lo guardo vedo uno che dipinge pensa un po' guardavano il mio pazzo vedo uno che dipinge ascolta ti voglio dire una cosa a te che tenete ehi senti le mettere le regno poi la verena non vi è stato già pronti è ma già la pizza la porto a casa adesso grazie a tutti Grazie.